Salve amici di Advanced Italian, in questo video andremo a vedere la prova di produzione scritta dell'esame CILS livello C2, prova del giugno 2012, una prova che dura un'ora e trenta minuti, novanta minuti quindi, di tempo per scrivere due temi. Nel primo caso un tema aperto, dove dovete scrivere tra 200 e 250 parole. Nel secondo caso invece si tratta di una mail o di una lettera che è molto più breve, tra 120 e 150 parole. Per svolgere questa prova farò due esami, cioè farò due video. Nel primo caso farò uno dei due esercizi della prova numero 1 e uno dei due esercizi della prova numero 2. Nell'altro video farò gli esercizi successivi, cioè non voglio fare tutte e quattro in questo video perché sarebbe un video troppo lungo, quindi cerchiamo di dividerlo. E poi durante l'esame ovviamente anche lì dovete scegliere uno di questi due temi, in entrambi i casi, quindi non dovete svolgerli entrambi. Per questo cerco di rendere il video un po' più breve. Quindi vediamo come ho risposto. In entrambi i casi, in questo video farò l'esempio numero 1 delle prove. Puoi scegliere di trattare uno dei seguenti argomenti. Devi scrivere da 200 a 250 parole. Devi scrivere il testo nel foglio della produzione scritta prova numero 1. Quindi l'istruzione pubblica è sotto attacco in tutto il mondo e gli studenti protestano in molti paesi. Che cosa ne pensi e che cosa accade nel tuo paese? Quindi due domande che dobbiamo svolgere in questo tema. Numero 1. Cosa pensiamo degli attacchi all'istruzione pubblica nel mondo? E cosa succede nel nostro paese? Vi faccio vedere come ho risposto. Sono 215 parole, quindi tra il limite indicato. Ho fatto una divisione in tre paragrafi, quindi una breve introduzione del tema, la mia opinione e poi una breve conclusione. L'istruzione pubblica è sotto attacco in tutto il mondo perché viene ritenuta colpevole di molte delle carenze che il sistema scolastico mostra. Le problematiche sono prevalentemente le stesse, anche se il grado di pericolo è diverso da paese a paese. Innanzitutto i programmi di studio sono obsoleti e troppo teorici. Manca la proiezione e la pratica. Lo studente studia tutti i giorni quello che deve imparare, ma se si mette davanti al problema per risolverlo non ha le capacità per farlo. Un altro problema che si nota, specialmente nel mio paese, in Spagna, sono le classi sovraffollate dove un insegnante si deve occupare di 40 allunni e questo rende l'interazione bilaterale impossibile. Inoltre l'edilizia scolastica ha bisogno di maggiori investimenti, specialmente d'inverno dove gli studenti incontrano difficoltà a concentrarsi e spesso finiscono per stare molti giorni ammalati. La scarsa motivazione degli insegnanti è un problema in più da considerare. Gli stipendi sono talmente bassi che gli insegnanti non sono abbastanza motivati a motivare gli allunni e sono talmente stanchi che non sono in grado di domandare di più a loro e chiedere risultati migliori. Tutti i problemi sopra menzionati si possono risolvere facilmente grazie agli interventi dei governi i quali devono assolutamente aumentare gli investimenti nel sistema scolastico per ottimizzare le strutture e aumentare il numero delle scuole. Quindi ho rispettato il limite di parole, a chi si può comunque superare, ma si deve raggiungere assolutamente il limite minimo. Ho diviso tutto in paragrafi e ho risposto ad entrambe le domande che mi sono state rivolte. Nel secondo caso, anche qui ho fatto la numero 1. Qui puoi scegliere di trattare uno dei seguenti argomenti da 120 a 150 parole. Sei un appassionato di cinema e da qualche mese collabori con un'associazione che organizza proiezioni con successiva discussione sulle tematiche del film. Scrivi la recessione di un film che ti ha colpito, evidenziandone gli aspetti che secondo te possono essere oggetto di discussione. Quindi devo descrivere un film, ma allo stesso tempo chiedere di partecipare a questa associazione. In questo caso scriviamo una mail, quindi la mail deve essere formale, dobbiamo scrivere ad una persona che non conosciamo, ci rivolgiamo a questa persona con il cognome, il suo cognome e chiudiamo con cordiali saluti e il nostro nome. Ovviamente nel primo paragrafo ci presentiamo brevemente, poi il corpo del tema, cioè quello di cui vogliamo scrivere e concludiamo. Gentile signor Marchesi, mi chiamo Marco Nerici e le scrivo perché sono un appassionato di cinema e mi interessavano le discussioni a riguardo che la vostra associazione organizza. Uno degli ultimi film che ho visto è stato Luther su Netflix. Si tratta di un film d'azione che si svolge nel Regno Unito dove l'investigatore deve risolvere un caso molto difficile che riguarda vari omicidi. Il film è molto interessante ma contiene un tasso molto elevato di violenza che può non avere un impatto molto positivo su tutti i telespettatori. Penso che proprio la violenza che spesso vediamo nei film sia un tema molto importante di discussione tra gli utenti e per questo volevo suggerirla. Sarei interessato a partecipare ad una delle vostre successive riunioni a riguardo. Cordiali saluti Marco. Quindi scrivo, faccio la recessione del film che ho visto e propongo un tema da trattare che è appunto la violenza che si vede nei film d'azione dove è sempre più esagerata. Specialmente in alcune serie tv. E concludo esprimendo il mio desiderio di partecipare a queste riunioni. Comunque fate attenzione a mantenere questa struttura quando svolgete questa prova, quindi presentatevi, rivolgetevi alla persona gentile signor X, Cordiali saluti è il vostro nome e prima di concludere con i cordiali saluti si scrive spesso anche un'altra frase. Ad esempio, se avete un problema scrivete Spero che lei risolva al più presto il mio problema o Spero che ci possiamo incontrare al più presto oppure Rimango in attesa di una sua risposta. Quindi sono le tipiche frasi che usiamo per concludere una lettera o una mail. E infine Cordiali saluti è il vostro nome. Questa è la struttura perfetta che almeno a livello organizzativo vi consente di prendere il punteggio pieno. Poi se anche il lessico è quello adeguato, ovviamente prenderete di sicuro il punteggio massimo. Questo è quello che volevo dire, però vi ricordo che all'interno del mio canale, all'interno della playlist CILS C2 Produzione dei testi iscritti, troverete anche altri esempi di questa prova degli altri anni. Vi lascio il link in descrizione sotto i commenti del video e ovviamente nel video successivo, come promesso, farò le altre due opzioni che erano a scelta. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!